Incidenza, mortalità e sopravvivenza ai tumori. Tutto schedato nella pubblicazione presentata ieri a Palazzo Sant'Agostino e curata dal chirurgo oncologo Luigi Cremone. Due i dati emblematici. In provincia di Salerno si ci ammala di cancro il 20% in meno che nel resto d'Italia, anche se le neoplasie sono comunque in aumento in relazione all'invecchiamento della popolazione. Le aree a maggiore incidenza tumorale sono l'agronocerino sarnese e la costiera amalfitana, rischi minori nel Cilento e nelle aree interne della provincia. Il registro è aggiornato al biennio 2006-2007. Si tratta di uno screening scientifico dell'andamento delle patologie neoplastiche tra la popolazione della provincia più estesa d'Italia. Il tumore più diffuso tra gli uomini è quello alla prostata, seguito a ruota da quello al polmone, ci sono poi quello alla vescica e quello al colon retto. Tra le donne al primo posto il tumore alla mammella e poi via via quello al colon a retto alla tiroide, in aumento tra i leggenti il sesso e l'incidenza di tumori ai polmoni. Ci sono alcune anomalie, comunque l'incidenza dei tumori del fegato e dell'encefalo sono di gran lunga superiore alla media nazionale per le donne, così come molto più alta la mortalità del tumore della tiroide. Tra gli uomini invece colpisce la mortalità del tumore della vescica e delle vie biliari.